Caselle Torinese, via delle fabbriche, proponiamo appartamento in condominio di sole 6 unità abitative. Nel condominio è appena stato fatto un lavoro di ristrutturazione importante tramite il 110 dove troviamo tutti quanti i cappotti nuovi quindi a livello di prestazione energetica sicuramente un impatto importante. Tutti quanti gli infissi esterni nuovi di ultima generazione sia con finestre che porte finestre con vasistas, impianto di aria condizionata presente con un motore unico e due splitter questo da 12.000 BTU e l'altro che troveremo nella camera da 9.000. Questi sono gli infissi, infissi come potete vedere tutti quanti a vasistas, zanzariere, ottima l'esposizione anche se la giornata non è delle migliori, davanti non abbiamo stabili. Ci troviamo questo balcone e un balcone sul lato opposto, tende da sole nuove, caldaia nella quale a breve verrà rifatto il mobiletto contenitivo della stessa e da questa parte di qua ci troviamo il secondo balcone che rientra. L'accesso al condominio è un accesso sterrato quindi lì in fondo quella per dire è la recinzione della chelemata in fondo alla via e c'è questa stradina sterrata dove tra accordi condominiali si può parcheggiare la macchina esternamente oppure usufruire del box auto. Il condominio sta ancora mettendo il fotovoltaico fotovoltaico che verrà collegato alla caldaia ibrida e quindi ho tramite luce solare o tramite gas. Ci troviamo il bagno col box doccia. Dall'ingresso accediamo a due stanze veramente grandi. In questa ci troviamo il secondo climatizzatore interno. Il riscaldamento è autonomo. Le spese di gestione condominiali sono contenute all'incirca 700 euro l'anno e questa è la seconda camera da letto con il secondo balcone. Ancora due particolari. La casa è accessoriata tramite domotica quindi ci sono i punti luce collegate all'applicazione di Alexa e tutte quante le tapparelle delle porte finestre sono anch'esse collegate dall'applicazione Alexa oppure comunque elettriche tramite comando da pulsante. All'interno del box auto hanno fatto arrivare la predisposizione per poter caricare elettricamente le auto di nuova generazione e questo è quanto.